Con 19 voti è stato lento Fusillo Mattia E' lui Fusillo Mattia Diciamo un applauso Io Mattia Fusillo, eletto oggi sindaco junior dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della città di Foggia Giuro di voler esploitare il mio mandato con impegno e lealtà Per la promozione dei diritti e dei doveri dei ragazzi Verso le istituzioni e verso la comunità cittadina Buongiorno a tutti i presenti Sono Mattia Fusillo della seconda O dell'Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli di Foggia Mi sono candidato per l'amore della mia città Per far valere la voce di Foggia e dei suoi giovani Se sarò eletto mi impegnerò con dedizione e passione affinché il programma venga realizzato Nella nostra città vorremmo che si potessero predisporre degli angoli riservati ai bisogni dei nostri piccoli amici Per far si che Foggia diventi una città a non fermi Vorremmo che a scuola fosse istituito un orto botanico Con prodotti biologici ed ecologici a chilometro zero Per fare merende genuine Vorremmo più belle le nostre scuole con piante e fiori Che potrebbero essere impiantate da noi alunni in una giornata dedicata all'ambiente Vorremmo che si creassero delle isole wifi gratis per tutti Rendere tutti gli spazi pubblici, bar, ristoranti, librerie, poste Con aree per i più piccoli Con giochi su misura per bambino Vorremmo aumentare le piste ciclabili Foggia potrebbe diventare la nuova Amsterdam del Sud Potremmo collaborare alla riapertura dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia E creare un'accademia per piccoli aspiranti di logo Come tutti sappiamo Una gran parte dei parchi di Foggia sono stati ristrutturati e abbelliti Noi giovani, i futuri rami di questa città Dobbiamo impegnarci nel mantenerli puliti Per far sì che Foggia diventi una città sempre più civile e vivibile Proporremmo di far instaurare un punto di incontro fra noi ragazzi E che esso sia un'area polifunzionale Proporre la creazione di una compagnia teatrale di giovani Che si basi sul senso civico e che sia attuato in forma itinerante nelle scuole di tutta Foggia Proporremmo di avviare un confronto tra scuola di prima e secondo grado Per rinnovare la conoscenza del patrimonio culturale di Foggia La nostra città ha un passato meraviglioso e noi non dobbiamo trascurarlo Proporre di creare spazi adatti allo sport Dove possiamo giocare e divertirsi Anche dove possono giocare e divertirsi anche i ragazzi con i bisogni speciali Lo sport, come tutti noi sappiamo, è uno degli elementi più importanti della nostra crescita E chi tra tutti non può spiegarci meglio perché è così importante lo sport Si potrebbe ideare una giornata con uno sportivo Invitare alcuni dei giocatori del nostro amato Foggia Calcio Per la condivisione dei valori dello sport Sarebbe bello aprire le scuole il pomeriggio per attività ludiche Aperte a studenti, genitori e quartiere In questo modo la scuola diventa un luogo partecipato e aggregatore di tante realtà Vorremmo la settimana corta, sabato a casa Per ridurre il consumo energetico della scuola E per passare più tempo con la nostra famiglia Un'altra idea sarebbe niente compiti per casa Con il metodo finlandese Un sistema educativo nuovo dove è stata introdotta anche l'ora della felicità Tutti i compiti si devono fare, ma a scuola Infine tutti noi vorremmo festeggiare ogni anno una giornata dedicata al gioco Per recuperare i giochi alla repetta Spesso ci sentiamo dire, questo non è un gioco Invece il gioco per noi è curiosità, creatività, emozione e fantasia Per realizzare tutto questo votatemi Per migliorare la nostra città e realizzare i nostri sogni Come diceva Walt Disney Se puoi sognarlo, puoi farlo Noi vogliamo sognare Mattia Pesillo Grazie Grazie